Mister Nunziata termina 0-0 il secondo test con la Serbia dopo quello vinto sabato scorso. Quali elementi ha raccolto da questo match? Forse troppe occasioni mancate. Io innanzitutto analizzo quasi sempre la prestazione della squadra. Non è stata una prestazione brillantissima, però sicuramente abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo creato tantissime occasioni da gol, penso che almeno 7-8 le abbiamo create. E questo è molto importante. Abbiamo concesso poco. È normale che non è facile giocare ogni due giorni, soprattutto con queste temperature. Però sono stati un buon ritiro, due buone partite che poi ci proiettano al Mondiale. Si è chiuso infatti il ritiro, il penultimo prima del Mondiale del 17 brasiliano. Ci aveva detto che voleva migliorare ciò che andava meno bene in questa squadra. Quali elementi positivi ha raccolto nel corso di questa settimana? Sicuramente sono state due partite impegnative perché comunque loro avevano aggressività, erano molto determinate e sono state impegnative. Abbiamo concesso poco. In due partite sicuramente abbiamo concesso molto poco e questo è molto importante perché il gol sicuramente con tutte le occasioni che abbiamo creato, prima o poi viene il fatto di concedere poco e è molto importante. Prima del Mondiale rimane l'ultimo raduno, quello d'inizio ottobre. Che cosa farà in quel raduno e quali aspetti insomma metterà al centro della sua attenzione? Ripasseremo un po' il tutto. Voglio dire, questa è una squadra che comunque gioca insieme già da un anno, più di un anno, sa quello che deve fare. È normale che conterà molto quando vai a fare queste competizioni la testa. Alla prossima Grazie a tutti.